Ciao a tutti, io mi chiamo Margherita e questo è il mio nuovo video! Iscrivetevi al mio canale MargheritaStory e vi ricordate di questo narvalo di ieri che si chiama... come si chiama? Nori? E oggi cercheremo di vederlo un po' di più e scoprire un po' di più della sua storia Ma prima di iniziare il nostro video, che cosa hanno in comune una televisione e una formica? Ve lo dirò alla fine del video, quindi guardatelo fino alla fine Ehi, cosa stai facendo con Nori? Scusa, che non hai proprio paura Tranquillo Ho preso una maglietta Che maglietta? Ho preso una mia maglietta E poi abbiamo visto che ho fatto così e aveva dei super poteri Quindi, magari mi può fare altri super poteri Ma che poteri? Io ho preso una maglietta Metto qua Nori, la lancerò dall'altro lato E vediamo se viene un'altra Margherita Ma sì, ma che dici? Ma è possibile? Vediamo 3, 2, 1 Ciao Margherita Margherita, se io faccio in te non toccherei tanto questo Hai visto cosa è successo? Cioè, era una come te qua così Identica, è proprio là dove sei tu adesso È comparse da nulla Non è che compare di nuovo, no? Sì, è proprio quando ho bracciato Ma se lo butto senza un'altra maglietta Allora, viene con gli stessi vestiti Ah, non lo so, guarda, non lo so Però, cosa ha detto? Cosa ha detto? Che ha... Che dobbiamo trovare una mappa Ma che... Una mappa C'è... C'è lasciata una mappa qua? Ma quando, scusa? Non lo so, non l'ho mai vista Quindi dobbiamo cercare una mappa Cerchiamo Dai, cerchiamola Non è strano Ma il nino, nino, come si chiama? Ok, lo lascia qua Lascia qua Come si chiama, come si chiama? Lascia qua Nori Nori, è una femmina quindi Lascia qua, eh Allora, andiamo a cercare questa mappa Sì, ma dove la cerchiamo? Non lo so, cerchiamo Ma dove vai? In giro Ah, così, a caso? Qua Ma è impossibile, con tutti questi giochi Lo so Qua no Qua Non c'è niente? No Non c'è niente? Guarda Lì sotto c'è qualcosa Cosa sarà? Cosa sarà? No La mappa La mappa La mappa Le leggo È tutta impolverata Leggiamo insieme Bravi Bravi Avete Avete trovato La mappa La mappa Oh mamma Oh mamma Leggiamo avanti Leggi, leggi, leggi avanti Dai, leggi anche tu con me Leggi anche io Tanta paura È tutta bruciacchiata Guardala È una vera mappa I miei poteri Saranno disponibili Soltanto durante Durante i campi di luna Sì E utilizzabili soltanto da Margherita Perchè? Dove ne è papà? Dove ne è papà? Dove ne è come sei? Non mi non lo so È qui Venga, fermi io Ti ricordi? Ti ricordi? Sì Sì C'è praticamente Puoi utilizzare soltanto Sui poteri E durante i giorni Di Cambi di luna Cambi di luna E perchè sono io? Penso perchè l'hai trovata tu Quel giorno Nel contenitore Quando giochevamo a Peluche canestro Ma perchè è proprio Questa non lo so Però Quando ci sono questi Cambi di luna? Gidea Guardiamo sul calendario Sul calendario ci sono scritti I cambi di luna Va bene Vada a prenderlo Vada a prenderlo Dove è il calendario? Dove è il calendario? Dove è il calendario? È qui appeso È qui appeso Eccolo Vieni qua Vieni qua Era qua appeso sul muro Vieni qua Guarda Guarda Abbiamo quattro cambi di luna Qua in settembre Mercoledì 2 Mercoledì 2 È luna nuova Luna piena È luna piena Vedi? San Elpidio Vescovo Quindi Possiamo usare Tu puoi usarlo In arvalo Sì sì Io posso usare Allora puoi usarlo soltanto No Mercoledì 2 Giovedì 10 Giovedì 17 E giovedì 24 Ricordati Queste saranno video di nuove avventure Mi sembra di sì Perché se vorrai utilizzare i poteri di Nori Dovrai utilizzarli durante questi giorni qua Altrimenti non so se funzionerà Magari un giorno proveremo a farli funzionare anche Anche se non ci sono i cambi di luna Va bene? Ma secondo me succederà un disastro Perché ci hai detto solo nei cambi di luna Ci proveremo allora Oggi è sabato Ci proveremo ma io non sono tanto sicura Oggi è sabato Domenica Lunedì Martedì Mercoledì Mercoledì potevo Fra tre giorni Fra quattro Il video di oggi si conclude qua Ma prima C'era una barzelletta La barzelletta Leora la barzelletta Come faceva la barzelletta? Ah giusto Allora Cosa hanno in comune? Cosa hanno in comune Un televisore E una formica Cosa hanno in comune? Le antenne Le antenne E' bellissima Le antenne No Non la vediamo Certo Infatti la tv E' la tenna La tenna che ha Le formiche La testa Perché anche la formica Guarda la tv No Non c'entra Dove hanno le formiche sulle? Mi raccomando Iscrivetevi All'altro canale E' tuo Dai Che si chiama Margherita Story E noi ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao